ciao sono il dottor max della pharma max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai parafarmaci ti leggerò i foglietti illustrativi dei parafarmaci più utilizzati prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali in base ai farmaci integratori alimentari parafarmaci farmaci veterinari alimenti veterinari o principi attivi da te assunti in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie ai suggerimenti condivisi in questo video esaminiamo il parafarmaco 02 alfa intes industria terapeutica splendore srl ultimo aggiornamento 7 aprile 2022 a cosa serve confezioni informazioni commerciali indicazioni componenti e ingredienti a cosa serve 02 un parafarmaco appartenente alla categoria degli fluidi liquidi per oftalmologia è commercializzato in italia dall'azienda alfa intes industria terapeutica splendore srl informazioni commerciali titolare alfa intes industria terapeutica splendore srl concessionario alfa intes industria terapeutica splendore srl categoria di appartenenza fluidi liquidi per oftalmologia confezioni 02 soluzione oftalmica 10 ml c 02 soluzione oftalmica 20 flaconcini 0,6 ml c indicazioni soluzione oftalmica che umidifica e lubrifica la superficie oculare riduce il rischio di instabilità del film lacrimale componenti e ingredienti sodio ialuronico 0,2 per cento fonte codifa l'informatore farmaceutico per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web della codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farma max ti sia stata utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo para farmaco esaminato